Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix. Prima volta in assoluto che faccio due video riguardo una partita di calcio. In realtà però oggi non è che parlerò di Inter-Sassuolo di ieri sera, ma i commenti che ho letto sotto il video di ieri sera e i commenti che ho letto sotto oggi gli articoli che parlavano della sconfitta e l'Inter mi hanno proprio spinto a fare questo video. È importante capire cosa sta succedendo all'Inter. Tutto ad un tratto siamo tornati ad essere scarsi. Fino a tre giorni fa eravamo la squadra che doveva ammazzare il campionato, oggi siamo una squadra scarsa, abbiamo risvegliato i milanisti. Improvvisamente oggi a Milano ho visto ricomparire magliette il Milan a destra e sinistra e non solo i tifosi milanisti, ma anche i giocatori milanisti che si sono divertiti sui social a far capire che stavano godendo che l'Inter aveva perso. Sono felice, sono molto felice di questa situazione. Molto felice perché questo vuol dire che ci temono. Quando si gode così tanto per una sconfitta è perché c'era veramente il timore che l'Inter potesse ammazzare questo campionato. La domanda che però vi faccio prima di iniziare il video è l'Inter è fortissima, è forte o è scarsa come sembra essere oggi? Cerco di analizzare la situazione con molta lucidità, perlomeno ci provo, scrivete qua sotto i vostri commenti. Ma prima guardate il video, buona visione! I principali colpevoli, secondo i tifosi, oggi sono tre. In ordine, Sommer, che sbaglia, non dà sicurezza alla squadra. Lautaro Martinez, che non segna più. E Simone Inzaghi, che sbaglia i cambi, sbaglia la tattica, sbaglia tutto. È quello che ho letto oggi sui social. Parto da Simone Inzaghi, che ho criticato ieri sera perché secondo me ieri sera ha sbagliato. Però vi faccio una domanda. Inzaghi, secondo voi, ha un credito verso i tifosi? Perché oggi mi sembra che questo credito non ci sia. Cioè, la prima partita che stecca, subito Inzaghi out. Veramente Inzaghi out, eh. E io dico, un allenatore che ha vinto tutti questi derby. Soprattutto in fila, con l'ultimo vinto in quel modo incredibile pochi giorni fa. Un allenatore che, oltre ad aver vinto i derby, ha vinto anche partite importanti. Finali contro il Milan e contro la Juventus. Un'importanza ancora maggiore perché c'era un trofeo da alzare. Un allenatore che ci porta in finale di Champions League dopo 13 anni con una squadra che nessuno ci dava neanche agli ottavi. Ti chiedo, Inzaghi ha un credito? Per me sì. Io sono stato uno che lo ha criticato, aspramente, anche l'anno scorso. Ma per quello che poi ha dimostrato, e cioè la capacità che ha avuto di riprendere questa squadra in due momenti molto brutti, che sono il primo a settembre dell'anno scorso, facendo quella vittoria incredibile col Barcellona, e il secondo dopo quella serie di sconfitte in campionato uno in fila all'altra e poi portandoci addirittura in finale di Champions League. Io credo che un allenatore del genere meriti un credito da parte dei tifosi. Si sbagliano le partite, si sbagliano tante partite, non pensate che sarà l'ultima. Ce ne saranno tante di partite in cui l'Inter sbaglierà, perderà, pareggerà o giocherà male. Però tutti gli allenatori sbagliano. Ma c'è una caratteristica che all'Inter bisogna dargli atto, ed è lì, visibile, tangibile. L'Inter gioca bene. L'Inter, comunque sia, anche quando perde, crea sempre occasioni da gol. Perché oggi i tifosi che ho visto, che ho incontrato, con cui ho parlato oggi, anche per strada in giro, mi dicevano, eh però con tutte le occasioni che abbiamo, ogni volta poi non segniamo mai. Se guardate la partita della Juventus col Sassuolo, non è paragonabile alla prestazione che ha fatto l'Inter. Ma proprio per niente, per nulla, io l'ho vista con la partita. La Juventus ha giocato in maniera terribile in confronto all'Inter. Quindi io sinceramente mi sento di espormi e di chiedere ai tifosi di dare il giusto merito a Inzaghi per quello che ha fatto. Sbaglierà, gli facciamo i complimenti quando vince il derby 5-1. Magari ieri sera l'abbiamo criticato, l'ho criticato anch'io. Ma comunque rimane un allenatore bravo che merita di stare su quella panchina. Il secondo giocatore super criticato è Sommer. Sommer ieri sbaglia. Quando è arrivato all'Inter, io vi ho detto, sbaglia, sbaglierà. L'anno scorso ha fatto diversi errori col Bayern Monaco. Se voi andate a guardarvi le partite, ha fatto diversi errori col Bayern Monaco. Anche più brutti di quello di ieri sera. Belle parate, diversi errori. Il problema è pensare che un portiere non sbagli mai. I portieri sbagliano. Tante volte sbagliano. Io vi ho detto, l'anno di Onana l'anno scorso è stato un unicum. Anni così. Anche dei portieri migliori. Si contano sulla punta delle dita. Alisson, che tutti ritengono oggi il miglior portiere al mondo, uno dei migliori portiere al mondo, ha fatto degli anni, negli scorsi anni, in cui ha avuto tanti errori, ma tantissimi errori. Non si può pensare ad avere un portiere che non sbaglia mai. Bisogna avere un portiere che dà sicurezza alla squadra. Ieri Sommer ha sbagliato. Si è preso il suo brutto voto in pagella. La partita dopo magari prenderà 6,5 o 7. Non lo so. In Champions League ci ha salvato lui. Quindi stiamo molto tranquilli. Se Sommer non si rimostrerà all'altezza, all'Inter l'anno prossimo sappiamo già che dovrà andare sul mercato per cercare un portiere. Ma non è facile trovare portieri che non sbagliano. Non è facile. Guardate l'Eventus con Chesney e vi renderete conto che di portieri forti che se non sbagliano mai non ci sono, non esistono. Il terzo colpevole di ieri sera è Lautaro Martinez. C'è un grosso, grosso, grossissimo equivoco su Lautaro Martinez. L'ho già detto l'anno scorso, lo ridico quest'anno. Lautaro Martinez non è un numero 9. Lautaro Martinez non è un numero 9. Allora, ieri sera dovete contare i minuti in cui Lautaro Martinez è stato in area di rigore. La gente mi chiede, ma come fa Oland a fare 50 gol a stagione? Oland sta 90% della partita attaccando l'area di rigore e cercando di andare a colpire tutti i palloni che orbitano in quella zona di campo. Lautaro Martinez non fa quel lavoro. Lautaro Martinez è un giocatore che gioca molto con la squadra, rincorre gli avversari, va a prendersi palloni anche a centrocampo, anche in difesa. Non è un numero 9. Il fatto che abbia fatto così tanti gol l'anno scorso è un'eccezione. È perché ha qualità nei piedi. E la stessa cosa vale per Turan. Sono due giocatori che hanno qualità, tantissima qualità, ma non giocano in area di rigore. Gli attaccanti che giocano in area di rigore, generalmente, se non segnano, prendono 5. 5 pagella. Sempre. È sempre così. Ricordatevi, i cardi, quei tipi di attaccanti, prendono 5 in pagella. All'Inter serve un numero 9? Assolutamente sì. Ma non si può pensare di snaturare le caratteristiche tecniche dei nostri attaccanti che hanno altre qualità. L'Inter ha sbagliato a partire con questi due titolari? Non ha sbagliato. Sperava probabilmente che Arnautovic potesse completare l'attacco e per me era il giocatore ideale e perfetto. In questo momento c'è un problema perché Arnautovic manca. L'Inter deve trovare un altro modo per superire la mancanza di Arnautovic. L'anno scorso non abbiamo avuto Lukaku per diversi mesi. L'Inter deve imparare, questo è il compito di Nzaghi, l'ho detto anche prima quando ho fatto il video su Arnautovic. L'Inter deve imparare a trovare un altro modo per sfruttare appieno le caratteristiche degli attaccanti che ha. Che in questo momento sono Sanchez, Lautaro e Turam. E di questi tre non c'è un numero 9. Non esiste. Non c'è. Quindi bisogna accettarlo e non bisogna dare addosso ogni volta agli attaccanti chiedendo loro di fare cose che non sono della loro natura. In chiusura, non ci sarà un nuovo Napoli. L'Inter non sarà un nuovo Napoli. Non credo che lo sarà, non credo che lo sarà il Milan. Non credo. Poi vedremo se qualcuno mi smentirà. Io credo che questo sarà un campionato molto lottato e lo sarà fino alla fine. L'importante, lo ribadisco, lo ridico, lo esigo, è che l'Inter faccia tesoro degli errori dell'anno scorso e che si arrivi fino alla fine a lottare per lo Scudetto. Perché questa squadra, con questa profondità di rosa, con questa qualità, deve lottare per lo Scudetto. Non è un obbligo vincere, è un obbligo lottare. Non possiamo assolutamente perdere contatto con la vetta perché se c'è una cosa che va imputata in zaghi è la prestazione in campionato dell'anno scorso. Completamente insufficiente. Lì deve ripartire e dimostrarci di poterci portare a lottare per vincere nel campionato, possibilmente vincerlo, perché sarebbe veramente la chiusura di un cerchio per questo gruppo fantastico, dopo aver vinto un campionato, diverse coppe nazionali, Supercoppa e finale Champions League, merita di rivincere un altro Scudetto per quello che ho fatto vedere sul campo. Che vedete qui sotto cosa ne pensate? Restiamo positivi, restiamo sul carro, mi raccomando, perché quello che ha bisogno dell'Inter oggi sono proprio i tifosi. Noi ci vediamo al prossimo video, se non siete iscritti al mio canale e vi piace l'Inter, iscrivetevi, ciao ragazzi. Grazie a tutti.